Un weekend all'insegna del caldo africano, dell'estate meteorologica iniziata il primo giugno. Colpirà principalmente il sud nelle prossime ore, dove durerà tutta la prossima settimana, mentre nel centro il picco è atteso fino a metà della prossima settimana e al nord il caldo sarà più moderato ma spesso afoso. Su alcune zone della Calabria, inoltre, domenica, spiegano gli esperti, si potranno toccare punte di 35 gradi. Il caldo estivo sarà meno intenso al nord. Al caldo, aggiungono ancora i meteorologi, si aggiungerà l'AFA, che si farà sentire soprattutto nei grandi centri urbani, tra il pomeriggio e la sera, nonché lungo le coste, dove tuttavia le temperature si manterranno più basse. La coperta anticiclonica, avverte Edoardo Ferrara di Tremeteo.com, risulterà tuttavia accorta al nord, dove avremo la possibilità per qualche rovescio temporale, in particolare su Alpe e Nord-Ovest, dove non si esclude qualche fenomeno anche intenso. Sulla Calabria, invece, è caldo molto afoso. Tra le città più calde nei prossimi giorni si segnala Cosenza, Reggio Calabria e Crotone.